Dottore Roberto Placido Di Palma, procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria. Siamo qua a Gezzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, per questo sono chiaramente onorato e contento di questa premiazione che in qualche maniera è un riconoscimento anche per il lavoro che facciamo quotidianamente per la giustizia. Cosa manca oggi ai giovani? Dei punti di riferimento, mancano dei punti di riferimento, manca l'ascolto dei giovani perché talvolta tendiamo a iper responsabilizzarli. Tutti vorremmo dei comportamenti anche corretti, orientati eticamente da parte dei giovani però mancano le persone che i giovani li vogliono seguire. Spesso e volentieri mancano proprio le famiglie. Grazie 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 Grazie